Ciao bambini! Io sono Tofì! Io sono Florì! E insieme siamo... IMA SENZA SE! Siete pronti per il nostro nuovo film? Mi è spaventato! Davvero? Sì! Il nostro nuovo film, abbiamo speso tanti soldi, abbiamo avuto un budget tantissimo... Sì, tantissimi soldi! Sì! Sì, e abbiamo fatto un classico del cinema! IMA SENZA SE in Mary Senza Poppins! Poppins! Sono sui tetti di Londra! Chissà chi incontrerò? E che vuoi incontrare? A me! O SPAZZA CAMIN! SPAZZA CAMIN! SPAZZA CAMIN! SPAZZA CAMIN! CAM CAMINI! CAM CAMINI! SPAZZA CAMIN! POLISCIO CAMINO! POLISCIO CAMINO! POLISCIO CAMINO! 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 Sta arrivando qualcun altro? Sarà Mary Poppins? No! Sogno sempre SPAZZA CAMINO! Sempre io sogno! SPAZZA CAMIN! SPAZZA CAMIN! SPAZZA CAMIN! SPAZZA CAMIN! SPAZZA CAMINO! CHE SPAZZA CAMINO! Ma Mary Poppins quando arriva! Ora arriva! Ora arriva! Ora arriva! che capolavoro è meglio dell'origine ma hanno scippato la borsa vi è piaciuto ti sei dimenticato il film sta per uscire e sapete quanto costerà il biglietto? davvero? 1500 euro non vedevate l'ora che aumentavano i prezzi vero? era per i costumi soldi spesi bene